La farmacia ovviamente è nell'evoluzione di questi anni, si è visto come ci sia la necessità appunto di una struttura sanitaria approssimare soprattutto al cittadino e questa è la funzione essenziale della farmacia. Sicuramente bisogna rimettere il paziente al centro del sistema sanitario regionale e nazionale ovviamente e la farmacia, in questo la farmacia di servizi ha dato prova di poter effettuare e di poter fare questa importantissima funzione. Il cittadino deve trovarsi accanto a casa, una struttura vicina alle proprie esigenze dove possa rivolgersi per fare tutte quelle cose che in ambito ospedaliero diventano più difficili. Quindi ovviamente con la normativa 153 del 2009 e l'introduzione alla farmacia di servizi è proprio quello che la farmacia sta facendo in questo periodo, quindi aiutare ad eliminare tutte quelle che sono le attese dei pazienti in ambito ospedaliero e quindi venire in conto il più possibile.